3-4-4 così via, con l'1-1-0-0 Baselbarn, 2-2 supplementare. Tutto pronto! Ericsson controlla che tutto sia a posto. Comincerà la Juventus. Amorata difende palla bene, Chiedira va a cercare subito. Liefsteiner, Alba sorpreso, Neuer in difficoltà! Pogba, errate! Errate! Proprio lui! Incredibile! Festeggia i 23 anni! Pogba! Juve in vantaggio! Morata, prova a ripartire. Alba lo insegue, vuole recuperare. Morata lo semina, grande snalom, ancora Morata scatenato. Grande azione, Quadrado tutto solo! Quadrado, destro! Errate! Errate! Che azione incredibile! Alvaro Morata e poi Quadrado! La giocata fenomenale, ripartenza fulminante, 0-2. La domestica Coman, molto bravo, dove scosta? Va un tiro cross pericoloso, coppa di testa retta. E' uscito, riapertura. Coman, cross teso, coppa di testa retta, Müller! Müller! Messo fuori da Evra, attenzione, palla in mezzo, Alcantara, prova lui! Rete! Piego Alcantara! Trova un barco, proprio lui! L'ultimo, che è falcata! E già dall'altra parte, pensa al tiro, prova col sinistro! Rete! Incredibile! Gioiello di Coman! Rete! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.